Musica Si ricomincia insomma, penso che era importante, era la cosa che tutti noi aspettavamo. Si ricomincia, si ricomincia spero alla grande, siamo veramente un bel gruppo di giovani e abbiamo fatto già tre giorni a piano regime e continueremo sicuramente così. Anche perché è a breve, ci sono le amichevoli, il mister vuole subito vedere il gioco, il lavoro con la palla. Subito martedì c'è la prima amichevoli con la Castiglionese, sarà subito un bel test, sarà sicuramente una partita dove cercheremo di esprimere sin da subito un bel gioco e più che altro cercheremo di far inserire anche nuovi nel nostro gioco. Certo, anche perché la squadra è stata largamente rinnovata. È stata rinnovata, sono arrivati un sacco di giovani, un sacco di giovani con tanta voglia e spero che comunque vada a portino entusiasmo, come sempre a Vicio Maggio, insomma c'è sempre stato ormai da anni. Sabato comunque, avete voluto continuare quella che è la vostra tradizione di andare a fare un allenamento al mare con tanto divertimento. Sì, da quando è arrivato Mr. Bracciali ci ha sempre portato al mare e abbiamo continuato questa tradizione. Anche perché comunque vada serve per far inserire i nuovi, come ti dicevo prima, e per passare comunque una piacevole giornata tutti insieme al mare. Grazie, buon lavoro. Grazie, grazie a voi. Grazie.